Dai mondi invisibili, A, oltre l'illusione, B, per un mondo migliore, C, le grandi verità, D, la voce dell'ignoto, E, oltre il silenzio, F, maestro, perché, G, la fonte preziosa, H. Con il suo vuoto interiore, Cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti, dizionario del Cerchio Firenze 77, a cura di VB, angoscia. Chi dà sapore alla vita solo per mezzo degli stimoli che gli vengono dal mondo esterno, quando questi gli vengono a mancare o non gli dicono più nulla, si trova faccia a faccia con il suo vuoto interiore e resta attanagliato dall'angoscia. Nasce così il problema di come sfuggire all'angoscia. Le soluzioni che si adottano possono essere molteplici e più o meno tragiche, dalla ricerca di conforto e di aiuto da parte di qualche sedicente maestro, alle droghe e al suicidio. Certo è che le soluzioni sono tutte errate perché non sradicano la causa dell'angoscia, che appunto è il vuoto interiore, ma si limitano a tamponare l'effetto, cioè a tacitare l'angoscia stessa. Cercare il conforto della protezione di qualche istruttore spirituale è un'illusione. Nessuno può fare per il singolo quello che il singolo personalmente, individualmente, deve fare. Nessuno può togliervi quello che inevitabilmente, per il vostro progresso individuale, dovete fare. Chi vi promette avanzamenti nella vita dello spirito o immunità dagli avvenimenti dolorosi, vi illude. Noi stessi, se erroneamente pensate che vi promettiamo tutto ciò, siamo per voi involontaria, fonte di illusione. Non dovete venire a noi sperando che noi possiamo farvi crescere, maturare spiritualmente o colmare il vostro vuoto interiore senza una partecipazione viva e diretta da parte vostra. Noi siamo come il cibo per l'affamato, il quale non si sazia al solo guardare il cibo, ma deve portarlo alla bocca, altrimenti non si sfamerà, né si sfamerà guardando altri sfamarsi. Non dovete venire a noi sperando che noi, per voi, risolviamo i vostri problemi o vi diamo serenità, allontanando i motivi del vostro affanno. Noi, al massimo, possiamo insegnarvi a risolvere i problemi, a trovare in voi stessi quella forza che fa restare sereni e padroni di sé, anche nelle avversità più dure. Ma sempre dovete essere voi stessi gli artefici di un tale vostro intimo cambiamento. 91D Prima, i motivi di sofferenza attraverso i quali l'uomo poteva scaricarsi e scaricare tutto il suo bisogno di star male, erano molti. E quindi le ragioni del suo malessere trovavano facilmente paternità nelle difficoltà del vivere di ogni giorno. Ecco perché le angosce spontanee che prova l'uomo oggi e delle quali non sa trovare paternità, erano allora sconosciute. C'era lo stesso bisogno di soffrire, cioè lo stesso desiderio di autopunirsi che c'è anche oggi. Ma allora l'autopunizione si chiamava sofferenza per sopravvivere, mentre oggi si chiama necessariamente angoscia senza motivo reale. 156G